Ben ritrovati cari telespettatori con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. Un giovane siriano è stato arrestato a Genova per associazione e arruolamento con finalità di terrorismo. Questa è l'accusa della Digos che all'alba, in collaborazione con i colleghi di Varese e con la Polizia Postale, ha fatto scattare le manette ai polsi di un 23enne residente a Varese. Gli accertamenti sono in corso sia nel capoluogo Ligure che nella vicina Rapallo, altra località frequentata dal siriano disoccupato e residente con la famiglia in Liguria. Secondo le prime informazioni avrebbe intrapreso un processo di arruolamento per recarsi in Siria e legarsi all'organizzazione Jabhat al-Nusra. Non sarebbero però emerse possibili progettualità violente in Italia. Arresti domiciliari per due imprenditori dell'astigiano accusati di bancarotta distrattiva documentale e ricorso abusivo al credito per quasi 9 milioni di euro. Di 69 e 49 anni avrebbero emesso sistematicamente fatture false bancarie. La Guardia di Finanza di Asti ha dato esecuzione alla misura coercitiva disposta dal giudice Giacomo Marson su richiesta del PM Giulia Marchetti. Le indagini erano partite in seguito al fallimento di due società operanti nel settore dell'autotrasporto in Italia e all'estero che avevano un passivo di quasi 5 milioni. L'Italia è il paese europeo con più densità di veicoli. L'Automobile Club nazionale ha calcolato 800 veicoli ogni 1000 abitanti. Un dato che purtroppo si accompagna anche a statistiche altrettanto elevate in termini di incidenti stradali e mancanza di cultura nel condurre un veicolo. Sentiamo Alessandra Dallacà. C'è chi sfreccia ad oltre 200 chilometri all'ora scambiando la strada per una pista da Formula 1. C'è chi invece sbaglia l'imbocco di uno svincolo, l'ingresso di un casello autostradale e semplicemente ingrana la retromarcia e torna, diciamo così, sui propri passi. C'è poi chi oltre a compiere manovre scriteriate beve o assume sostanze stupefacenti. Ed ecco il risultato. La strage di vite umane non si ferma. Secondo i dati diffusi dall'osservatorio dell'Associazione Familiari Vittime della Strada, nel primo semestre del 2016 i decessi per incidente hanno registrato un incremento medio del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E se si guarda indietro, dal 2000 ad oggi sono circa 75.000 i morti e 300.000 i disabili permanenti, oltre a milioni di feriti, senza calcolare il costo sulla sanità pubblica collegata a chi sopravvive, sì ad un incidente, ma resta meno mato o a lungo in convalescenza. La prevenzione, attraverso autovelox o altri deterrenti, o tramite sanzioni e controlli, fino alla più recente istituzione del reato per omicidio stradale, sembra scoraggiare, ma non troppo, gli automobilisti indisciplinati, che non hanno cultura sul modo di condurre un veicolo. Ancora poche ore fa, la polizia stradale di Ovada ha ritirato la patente ad un milanese, fermato per eccesso di velocità, il display segnalava 215 km orari, eppur con una multa che può arrivare a superare i 3.000 euro, questa persona non ha dato segni di particolare pentimento. Eppure, quando ci si mette alla guida, basterebbe realizzare che sia tra le mani uno strumento per muoversi, ovvio, ma che può trasformarsi pure in un pericoloso dispositivo di morte. Una banalità, tanto scontata quanto disattesa? L'uso del cellulare è vietato in macchina, eppure si continuano a registrare casi di incidenti dovuti a distrazioni e all'utilizzo improprio del telefonino. Perché non serve sgranare gli occhi e deprecare il comportamento di chi viene sorpreso a percorrere in retromarcia lo svincolo autostradale di turno? Sull'A26, per esempio, è successo una ventina di volte nel 2015, e ad oggi, dall'inizio del 2016, si è già a quota di 10 casi segnalati dalla polstrada. Occorre prestare attenzione ad ogni singola azione quando si guida, perché, e non è solo un modo di dire, è un attimo. E quell'attimo può cambiare la vita propria e altrui. L'azienda ospedaliera di Alessandria entra nel campo della sperimentazione oncologica, stringendo una collaborazione con due istituti di ricerca, fra i più accreditati a livello europeo. Quello della sperimentazione oncologica è un tema fortemente dibattuto. Quando i malati terminali hanno ormai provato ogni tipo di terapia, la sperimentazione è una sorta di ultima spiaggia. Può miracolosamente funzionare e allungare la vita, come può fissare nuove basi nel campo della ricerca per i malati futuri. Si tratta di un percorso delicatissimo per chi si trova di fronte a questa scelta, spesso non supportato da alcun terapeuta, che possa guidare anche a livello psicologico il paziente, il quale si trova di fronte alla consapevolezza che la medicina tradizionale non potrà più aiutarlo e che la speranza è appesa al filo della sperimentazione. Va detto che non tutti i malati possono accedere a queste terapie e che la valutazione dell'intero quadro clinico deve rispettare determinati parametri molto rigidi e va anche detto che i nuovi farmaci il più delle volte vengono somministrati a pochissimi pazienti sparsi nel mondo, con percentuali di successo che vengono valutate di giorno in giorno. Un'incognita alla quale ci si aggrappa perché di cancro non si vuole morire e perché per un malato di cancro la vita, ormai diventata un calvario, vuole prepotentemente trovare una speranza. E la speranza in campo medico è data proprio dalla sperimentazione, dal progresso, affinché un giorno questo male venga finalmente sradicato e debellato. In Italia ci sono ormai diverse strutture collegate in rete, come lo studio alla cura dei tumori in provincia di Forlì, guidato da Luminare Dino Amadori, e l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, diretto da Silvio Garattini, sedi di accreditata stima internazionale, alle quali si affiderà l'azienda ospedaliera di Alessandria, da alcuni anni vicino ai pazienti affetti da mesotelioma, la malattia d'amianto, che continua ad affliggere soprattutto la popolazione di Casale Monferrato. Una collaborazione che continua, grazie all'ex ministro alla sanità Renato Balduzzi, che nella stesura del piano nazionale amianto individuò proprio i professori Garattini e Amadori come nominativi da inserire nel pool medico. L'azienda ospedaliera Alessandrina collaborerà con i migliori ricercatori, dando priorità a chi ha contratto il mesotelioma, ma continuerà anche il suo cammino nella formazione infermieristica e nella gestione della farmacia oncologica. L'ex ministro della cultura Massimo Brai è il nuovo presidente della Fondazione per il Libro, l'ente promotore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Lo ha deciso il consiglio di indirizzo dell'ente riunito nel Palazzo della Regione Piemonte. Sono onorato, mi ha colpito l'ampio progetto culturale e ho dato la mia disponibilità a completare il disegno di questo salone. Sono state le prime parole di Brai, il direttore della fondazione, verrà invece scelto il 23 di agosto. Lutto a Novi Ligure per la morte di Ines Priano, mancata all'età di 101 anni, molto nota in città, l'ultracentenaria aveva sposato il ristoratore Osvaldo Robino, che è stato anche consigliere comunale. Entrambi esperti nel settore del commercio hanno dedicato la loro vita alla gestione di bar. Amante dello sport, seguiva la Juve e la Formula 1, è stata lucidissima fino a poco prima di mancare, seguendo le notizie del mondo e della sua città. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 alla Basilica della Maddalena. Si chiama Tuffiamoci per difendere l'acqua ed è un'iniziativa di Lega Ambiente e ce la racconta Bruno Mattana. Buono lo stato ecologico dei corsi d'acqua piemontesi dopo l'applicazione delle nuove direttive regionali per difendere l'acqua e la natura dei nostri fiumi. A livello provinciale, importante impegno contro le progettate centrali idroelettriche sul Piorta, sullo Stura e sull'Orba, il Piemonte insorge con iniziative varie. Questa prima iniziativa, poi ne seguivano altre, è andata in porto grazie a Lega Ambiente, Ovadese e Valle Stura. Un'iniziativa in particolare è stata lanciata. Tuffiamoci per difendere l'acqua. Ci siamo tuffati e ci tufferemo ancora, facendo sempre più massa, dice Michela Sericano, presidente di Lega Ambiente, per mobilitare cittadini e istituzioni e assumere tutti insieme impegno concreto a difendere le nostre acque, i torrenti e le falde, dall'attacco degli inquinanti in generale, poi dalle discariche di rifiuti industriali e urbani e dagli impianti chimici gestiti in modo sconsiderato, dall'utilizzo di pesticidi in agricoltura, lungo le strade e nei centri abitati, delle cattazioni idroelettriche speculative, dalle cave che rendono le falde più vulnerabili e del malaffare che è l'inquinante più pericoloso. Nell'Alessandrino in particolare questa iniziativa riguarda i corsi d'acqua come il Piotr, l'Ostura e l'Orba. È necessario un grado di attenzione particolare. Sta andando verso soluzioni non gradite, ad esempio il progetto di autorizzazione da parte della provincia e della conferenza dei servizi dell'impianto idroelettrico La Pieve sul torrente Piotr in comune di Silvano d'Orba, un corredoio ecologico unico tra il parco di Capanne di Marcavolo e la riserva speciale del Piotr e dell'Orba. Intanto Legambiente chiede agli organi tecnici della provincia di verificare la sostenibilità della centrale sul Piotr alla luce anche delle recenti disposizioni pubblicate dall'ARPA, cioè gli aspetti idromorfologici, del corpo idrico del Piotr. In sostanza l'ARPA dice che questo tratto di fiume oggi soffre per la poca quantità di acqua che vi scorre, quindi una grossa minaccia all'ecosistema. Per il Torrente Stura un problema di salvaguardia legato all'aspetto alluvionale, suo vada che si porta dietro una minaccia soprattutto per la città, aggravato ora dal discusso progetto di una centrale elettrica privata da costruirsi a qualche centenario di metri dalla confluenza con l'Orba. Un grosso problema tuttora è risolto. Il solo interesse, dice la Presidente di Legambiente Michele Assericano, legato agli incentivi statali, snaturando un fiume così bello, naturale e salubro. Noi pensiamo che si può vivere bene solo se si è in armonia con la natura. Se invece si tenta di usare le violenze per soddisfare le proprie miopiabilità del momento, il risultato è poco durevole e i rischi e le conseguenze negative vengono presto a galla. Un appello finale. In centinaia si sono tuffati nel torrente per difendere l'acqua e la naturalità dei fiumi. Si continuerà a farlo in forma collettiva e organizzata per tenere vivo il problema. Barre vietati alle turiste in Bicchini e ai turisti in Bermuda. I gestori dei locali pubblici di Albisola Superiore hanno affisso un cartello all'esterno per ricordare l'ordinanza firmata dal sindaco Franco Orsi che prevede sanzioni da 25 a 500 euro. Il pudore dovrebbe essere sancito da un normale senso civico e da una minima educazione, sottolineano i commercianti. Il nostro è un richiamo all'educazione e al decoro. Alcuni esercizi commerciali, anche senza l'ordinanza, non servivano clienti in tenuta da spiaggia, ha spiegato ancora il sindaco della località Ligure. E continuiamo a parlare di estate, questa volta però con un fenomeno molto brutto, orribile, che si verifica sempre in questo periodo, vale a dire l'abbandono di cani e di gatti. Il servizio. Estate e il ritornello si ripresenta sempre uguale. Sole, bel tempo e voglia di partire se le tasche ce lo permettono e possibilmente tutti insieme, compresi gli animali di casa, quelli che per tutto l'anno ci fanno compagnia e che l'imperativo ed obbligo vanno trattati come membri della famiglia e portati quindi in vacanza. Eppure ogni anno torna, insieme alle mete da scegliere per la villeggiatura, la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali, problema che statisticamente registra al suo apice nei mesi estivi. Infatti, nonostante l'entrata in vigore della legge numero 189 nel 2004, che prevede la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a 10.000 euro per il reato di abbandono, d'estate vengono lasciati numerosi animali, che spesso vanno incontro ad un triste destino. E allora l'invito è quello del buonsenso, oltre che dell'amore verso i propri amici fidati. Chi non può portare con sé fido durante le vacanze, può affidarlo ad un amico o un parente che si possa prender cura di lui. Esistono poi i centri di dog e cat sitter, che tengono a dimora gli animali di affezione, con tutte le cure del caso. La campagna di sensibilizzazione ribadisce inoltre l'importanza di provvedere alla microcipatura dei cani, obbligo di legge in capo ai proprietari della mamma dei cuccioli, sia esso un privato o un allevatore. Il microcip, infatti, oltre a contenere tutti i dati dell'animale, è un efficace strumento per identificare il proprietario e prevenire il randagismo. Appena sarà possibile, è necessario procedere alla microcipatura anche delle colonie feline riconosciute. Già oggi, i gatti, per recarsi all'estero, devono essere obbligatoriamente identificati con microcip per poter acquisire il passaporto europeo, documento indispensabile, così come per il cane, per le movimentazioni fuori dai confini nazionali. I proprietari dei gatti possono inoltre iscrivere volontariamente i propri animali nelle anagrafi regionali. Riparte il mercato delle case in Piemonte, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate a Torino, le quotazioni scendono del 2,5% con i valori che tengono solo in pochissimi quartieri. Rissegno positivo a Verbania, più 24,6%, Novara, più 16,6%, Alessandria, più 15,1%. Roberto Monteriso. Il mercato delle case in Piemonte è ripartito. Nel secondo semestre del 2015, il numero di compravendite in regione è salito del 10,1%, con valori positivi un po' in tutte le province della regione. Si va dal più 1,8% di Cuneo, si passa per il più 11,3% di Torino e si arriva fino al più 21,4% di Novara. A certificare la ripresa è l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che passa al vaglio tutti gli atti depositati in regione durante la seconda metà dell'anno scorso. Dall'analisi emerge che la quotazione media degli immobili in Piemonte è scesa dell'1,8%, ma in provincia di Torino la discesa è stata lievamente più marcata, con un meno 2%. Se si guarda al solo capoluogo, i prezzi risultano invece in discesa del 2,5%, mentre la zona più colpita dai ribassi risulta essere leporediese, meno 13,2%. A Torino, città, l'area in cui si registrano i prezzi più elevati è quella di Piazza Carlo Emanuele II, dove gli alloggi in media costano 3.125 euro al metro quadrato e sono tra i pochi della città a non perdere valore. Seguono via Roma e Piazza Crimea. Le zone più economiche sono invece Barca Bertolla, 1.353 euro al metro quadrato, Porta Palazzo e Piazza Rebaudengo. Proprio Porta Pile è un'altra delle zone dove il valore delle case è in salita dell'1,9%, e la stessa cosa accade pure in Corso dei Gasperi, la Spina 1 attorno a Piazza Marmolada e la Collina di Cavorento. Una donazione di mille coppi a sostegno della cittadella di Alessandria. Arriva dal soggiorno borsalino di Corso la Marmora, la bella iniziativa di solidarietà. A sostegno della fortezza militare, i cui tetti versano in pessime condizioni. È stato il direttore della Casa di Riposo, Giampaolo Paravidino, a trovare il cospicuo quantitativo nel sottotetto della struttura alessandrina. Contattato il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e le istituzioni competenti, è arrivato l'ok per quest'operazione di recupero, cui si è aggiunto un tassello in più. Chi vorrà infatti potrà adottare un coppo grazie a un'offerta che aiuterà ulteriormente i lavori in cittadella. L'appuntamento è per il prossimo 10 agosto, quando a partire dalle ore 19 ci si potrà recare nel cortile del borsalino, adottare appunto un coppo e firmarlo. L'annuncio è di quelli destinati a farsi sicuramente leggere. Vendisi antico e suggestivo castello nel Monferrato, completo di fantasma e tesoro. Sembrerebbe quasi uno scherzo se a pubblicarlo non fosse uno dei più importanti portali in Italia di annunci immobiliari. E così si scopre che il castello infestato si trova ad Arignano, paesino medievale, con poco più di mille abitanti, a una ventina di chilometri da Torino. Originario del X secolo, con rivisitazioni del 1300, il castello sorge nel punto più alto di Arignano. E' dotato anche di una torre quadrata, cortile e grande giardino. Nessuna indicazione nell'annuncio del presunto tesoro, mentre sono in molti quelli pronti a giurare di avere visto i fantasmi. Tra poco la pagina sportiva alla Sampdoria proda da quiterme per un mini ritiro, prima di partire per Barcellona ed affrontare gli uomini di Leo Messi. Continua la ricerca della Juventus per un centrocampista, mentre il Torino sta cercando di risolvere la Magagna Maximovic. Per l'Alessandria Calcio invece il club Orgoglio Grigio sta raccogliendo adesioni per allestire il pullman di tifosi in partenza alla volta di Perugia, dove domenica sera la squadra di Mister Braglia affronterà il secondo turno di Team Cup. Subito dopo la pagina sportiva con tutti questi argomenti, le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito e arrivederci.